Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa si sono formati un chilometro di coda in direzione Firenze e rallentamenti in direzione Livorno. A Firenze per i lavori di riqualificazione di Piazza dell'Isolotto sono in vigore divieti di transito nella piazza da Via delle Hortensie a Lungarno dei Pioppi e in Via degli Gustri. Corri entro a scuola anche per gli studenti delle superiori è in atto una nuova fase per quanto riguarda l'organizzazione del trasporto pubblico. Aggiornamenti e approfondimenti sui canali social di Muoversi in Toscana. Si ricorda che il numero verde regionale per gli utenti del TPL è 857 05 30. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!